Rapina aggravata, lesioni personali aggravate, minaccia, violazione di domicilio, sequestro di persona. Questa è l'ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Sulmona contesta a un quarantenne romeno, ex latitante, comparso ieri davanti al Collegio del Tribunale per la brutale aggressione ai danni di un pastore che risale ormai a dieci anni fa. Il giovane si era reso reperibile per lungo tempo fino alla latitanza che cessò con l'arresto e la detenzione, tuttora in corso, per altri reati. Il conto della giustizia lo pagherà verosimilmente fino alla fine, anche se, per le eccezioni sollevate dall'Avvocato d'Ufficio, il Collegio dovrà ricomporsi nella prossima udienza. I fatti risalgono al 10 agosto 2013, quando, nella località Chiarano Sparbera di Barrea, il giovane penetrò con forza all'interno del ricovero occupato da un pastore forzando la porta d'ingresso. Iniziò quindi l'escalation di violenza, prima calci, pugni, minacce di morte, poi puntandoli un coltello alla gola avrebbe costretto la vittima a scrivere proprio nome su un foglio, a preparargli un caffè, trattandolo praticamente come uno schiavo. Per circa tre ore li avrebbe impedito di allontanarsi dal rifugio, sequestrandolo, privandolo della libertà personale. Sempre sotto minaccia aggravata dall'uso dell'arma, li avrebbe sottratto la somma di 100 euro, il tutto approfittando della condizione di incapacità ad agire della vittima. Una vera e propria omigliazione che, secondo l'accusa, il 39enne aveva compiuto in concorso con un'altra persona, uscita però assolta al termine del procedimento penale. Per il giovane, invece, il processo è partito in ritardo, vista l'irreperibilità prima e la latitanza dopo. Dopo dieci anni, finisce così alla sbarra.